potrebbero fare un manuale su come si presentano le liste, solo copiando le liste abbiamo visto già in quelle confusioni, litigi, sotterfuggi gente che arrivava nel comune da destra a manca si arrivano da tutte le stanze cioè ribadisco nel comune di Avellino i pilastri base sono saltati per noi la politica è il servizio stare a disposizione della comunità ma nel senso più nobile del tempo cioè se c'è un problema da risolvere noi ci siamo se c'è un interesse pubblico da tutelare noi ci siamo noi del campo progressista si avvegliamo pubblicheremo gli atti dei libri, dei termini il comune sarà una casa di vetro la parola chiave della nostra campagna elettorale di quello che sarà il futuro sarà partecipazione i cittadini che partecipano alle nostre scelte questo vale per tutti quei giovani che pensano che su di noi ci sia un alone di vintage più nostalgico che tendente al futuro allora lo dico a tutti i giovani avevi pensato noi non trucchiamo i concorsi si avvegliamo mai più un concorso trucchiamo grazie grazie